Buongiorno, io sono John Seck, abitante di questo posto, ovvero l'ex pelicibina. Ultimamente di questo posto se ne sta parlando tantissimo, in modo negativo. Tutti parlano di noi, tutti sanno chi siamo. Però nessuno sa veramente chi siamo, perché nessuno ci ha mai ascoltati, nessuno mai ci ha dato l'opportunità di dire qualche cosa. Vogliamo semplicemente chiedere una conferenza stampa aperto a qualsiasi masmedia. Chiunque abbia intenzione di scrivere o di saperne qualcosa, però non tramite altre persone, ma direttamente dalle persone che vivono in corresto stabile, è pregato a presentarsi mercoledì 14 alle ore 12, quindi conferenza stampa aperta al pubblico, a chiunque. In questo posto all'ex pelicibina, poco all'interno della struttura medesima, in modo tale di poterci sentire, in modo tale di sapere veramente chi siamo e magari, chissà, noi siamo disponibili ad offrire un piano alternativo per una soluzione ovviare a questo problema.